Ragazzi buongiorno, spero che siate tutto bene, aspetto le vostre risposte per la settimana scorsa, per alcuni lavori della settimana scorsa. Questa settimana iniziamo con un nuovo argomento che è la casa, quindi parleremo della casa e io vi mando un piccolo glossario con tutte le informazioni e le parole più importanti da sapere. Quindi studiate quello e poi in questa maniera noi sapremo come rispondere a pagina 79. Quindi aspettate che io vi mandi direttamente il documento, il glossario, fatto questo poi risponderemo a questi esercizi di pagina 79, esercizi 4, 5 e 6 e poi faremo un altro lavoro di scrittura. Però questo comunque sia andrà avanti per tre giorni la casa, quindi non vi preoccupate, studiate quello che vi mando, sicuramente andrete bene, cose molto utili che utilizzerete spesso. Ciao ciao!